Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video guida Allora, questo Heartless Raro è il Giga Spettro Si trova nel punto dove battete il boss che vi dà gran salto, per capirci No, non è il boss che vi dà gran salto, è il boss subito dopo che vi dà gran salto Dovete salire nella gola della balena e andare su, salire su fino al massimo in alto Vi troverete qui e c'è questo Heartless Allora, questo Heartless è molto particolare Si uccide con gli oggetti, ossia, vi faccio vedere Quindi vi conviene andare negli oggetti prima di arrivare, prima di venire qua E mettervi un po' di oggetti, almeno gran pozione, perché sennò gli toglie troppo poco a pozione normale Allora, fate oggetti, una pozione qualunque fantasma E gli fate male È andato avanti così Ho anche scoperto che se lo picchiate Vi dà oggetti Quindi voi cagate gli oggetti Cioè gli fate cagare gli oggetti e glielo li date E la mozzate così Oggetti, opzione fantasma Oggetti, potete essere abbastanza vicini perché sennò non compare nel menu E comunque vi dà pietra gelo quando lo uccidete Non è molto difficile, bisogna solo avere un minimo di difesa perché sennò dovete mettervi anche a curarvi Mentre che lui, perché vi colpisce nel frattempo Però se gli date oggetti vi dà vita e quindi vi ricaricate abbastanza Non è per niente difficile Com'è telestraro e vi dà pietra gelo Quasi sicuramente, cioè non mi è quasi mai capitato che non me la droppasse E boh, questo è tutto quello che riguarda Vi faccio vedere la strada all'India Al contrario così capite da che parte Bisogna entrare qua Nella gola Che è la porta subito sopra All'entrata principale della balena Per andarci basta andare da lì Avendo il gran salto si può arrivare fino a qua E poi ci si può andare Ok? Bene, questo è tutto quello che voglio dirvi su questo Air 3SR Su questo gigaspettro E... Ne scintiamo ad un prossimo video Ciao!